Guccini diceva che il peccato fu creder speciale una storia normale, ma l'amore è per forza idealizzazione e trasformazione dell'idea di una persona in un'idea di assoluto, eterno, immutabile. Poco importa se, agli occhi degli altri, il nostro sentimento sia indifferente. Tutte le storie sono normali per chi non è coinvolto. Quello che fanno gli artisti è descrivere i propri sentimenti non in virtù della persona amata, ma come elevazione di se stessi e meravigliarsi di essere capaci di provare qualcosa che si era letto nei libri e riconoscere quello specifico paio di occhi che in questo inferno non è inferno.